Ben ritrovati come è stato, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like qui sotto, iscrivetevi qui e attivate la campanella con la felpa dei 125 del Milan, la trovate qui sotto nel link in descrizione sullo store di Milanello, versione grigia come questa, nera, rossa o bianca, è comodissima, tiene una temperatura perfetta e morbida, davvero potete fare anche qualche regalo di Natale se vi va. Allora ragazzi, volevo, abbiamo parlato poi questa mattina di Raffa Leao che ha fatto ieri un gol pazzesco, che in questo momento ha le quotazioni risalita, c'è un giocatore che invece purtroppo mi sta deludendo molto e questo giocatore si chiama Pavlovich, che non ha giocato neanche ieri con la sua nazionale, giocatore che aveva avuto un ottimo approccio di personalità sul e nel mondo Milan, però poi le prestazioni sono corrollate, le presenze anche in campo pure, quando ha giocato non ha fatto bene. Ecco, parlavamo con Mr. Bottoni, Pavlovich, che secondo Moncada con cui ho parlato lunedì ha giocato bene a Cagliari, secondo me no, a Cagliari ad esempio, oltre che di testa non la prendono mai, lui è ciao, nei cross tantissimi, perdiamo tantissimi duelli, non dà lo scarico a Fofanà che è costretto a dare indietro una palla, pensato di avere il compagno che invece non dà lo scarico, lui avanza come aveva fatto aggredendo il centrocampo contro l'Udinese, costringendo poi a rendersi all'espulsione. Tanti errori, qui non so ragazzi se è un problema di contesto, sicuramente si fa fatica e oggi salviamo soltanto Gabbia come difensore del Milan, ho un problema individuale, magari anche di caratteristiche. A me sembra più un braccetto, ve lo devo dire onestamente, lui ha fatto l'Europa da braccetto, cioè giocare sul centro-sinistra e non centrale nei due. Poi, non sono un tecnico però ho questa sensazione qui e in generale comunque quasi 20 milioni di euro spesi per lui, oggi non si vedono, va detto, e se non si vedranno neanche in futuro sarà un problema perché avranno speso soldi male e avremo difficoltà in difesa dove comunque sono in quattro e Pavlovich serve e servirà. È colpa sua, è colpa anche di Fonseca, ditemi che ne pensate, commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Lo store per la FEPA 225 è qui sotto. Grazie per l'attenzione e a dopo.